Andiamo a parlare, intanto metto una musica un po' più light sotto, andiamo a parlare di un caltone che si chiama il villaggio dei dannati Titolo originale, il nuovo titolo diciamo italiano glielo ho ridato io è Son ragazzi Insomma dai non pigliamoci la Son ragazzi, fanno qualche cosa che non andrebbe fatta ma Son ragazzi L'edizione è quella di Midnight Factory, chiaramente questo è un mega marchettone dovrò parlare assolutamente bene di questo film Perché sai com'è? No, ne parlo come cazzo mi pare a me indipendentemente se il film mi viene mandato o meno È una classic meravigliosa con tutte le sue chicchettine per chi ama collezionare queste robe C'è la tasca che è una novità degli ultimi anni insomma che apprezzo tantissimo Il librettino curato da nocturno quindi non da picco pallino ma comunque una realtà abbastanza importante Decennale direi, il librettino è sempre più di alta qualità come fattura della carta Tra l'altro mi dicono quindi non ne ho la certezza però mi è giunta voce che la carta per le produzioni editoriali Libri, fumetti così pare che sia aumentata magari qualcuno lo sa meglio del 100% Se è vero è veramente un dramma perché questa è una brutta botta per i libri, i fumetti e penso anche per le edizioni perché aumentano i costi Parliamo un po' di questo meraviglioso film che è un remake del Villaggio dei Dannati Ma prima di parlarne mi apro un attimo i miei appunti Allora ragazzi volete dirmi anche voi se il film me lo avete visto, lo conoscete Ne avete delle opinioni Di sicuro si sa che il Villaggio dei Dannati di John Carpenter è uno dei film meno apprezzati Uno tra i tanti film meno apprezzati di Carpenter nel senso che vabbè ha fatto bombe che veramente non sono accostabili a questo film Cioè stiamo parlando di che ne so tantissimi film sono La Cosa o Fuga da New York Sono veramente molto superiori a questo film Questo film che nasce come una sorta di scambio con la casa di produzione Cioè fammi sto film John che ce l'ho in ballo, lo voglio fare E John dice vabbè io sono... quello fa di lavoro no? Perché non è che stiamo parlando di gente che dice no io sono un artista no? Lui fa i film Quindi la casa di produzione dice ce l'ho in ballo, sta sceneggiatura, lo voglio rifare, voglio fare questo film È un remake e lui glielo fa chiaramente per avere poi qualcosa in cambio Il remake è di un film degli anni sessanta Omonimo diciamo con lo stesso nome È tratto dal libro The Midwich Cuckus The Midwich Cuckus Che in italiano tradotto sarebbe I Cuculi di Midwich I Cuculi di Midwich significa I Cuculi sono degli uccelli che hanno una particolarità Loro usano i nidi degli altri per le loro uova È interessante come cosa no? Capite che nel contesto della storia che ci dietro a questo film, questo libro Tutto inizia ad avere un senso Chiaramente i Cuculi di Midwich Ma chi cazzo lo andava a vedere? Dico io E quindi il villaggio dei dannati faceva molto più scena Quindi The Village of the Damned Dovrebbe essere il titolo originale È un titolo interessante Cosa succede? Praticamente ci sono queste persone che Vediamoci il trailer Vediamoci il trailer Che fa? Faccio raccontare tutto a me No Vediamoci il trailer che I bambini inquietanti Cascchettati Sì sono dei È il villaggio dei Nini D'Angeli Perché hanno tutti la pettinatura di Nino D'Angelo Quando insomma Nino D'Angelo Spopolava con questi capelli In uno spugnezzo in New York A proposito di capelli Prima di andare a vedere il trailer Interessante Allora intanto vede Se prendete l'edizione questa qua Dentro ci sono gli extra che sono sempre molto divertenti Scoprirete che i capelli Non sono parrucche Ma nelle prime recensioni Parlavano appunto di brutte parrucche Parrucche poco credibili In realtà i bambini Purtroppo per loro Sono stati ossigenati pesantemente E quindi qua Sarebbe anche da fare intervenire la protezione ai minori Non so Sono stati ossigenati Avevano i capelli bianchi Quindi immaginatevi i bambini Durante le pause Quando andavano in città Così Magari giravano anche in gruppo Con i capelli bianchi 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 proprio Sono stati ossigenati Quindi niente parrucche Hanno sofferto un po' Sapete quando Si fa L'ossigenazione dei capelli Brucia un po' La cute Brucia un bel po' La cute Quindi hanno sofferto parecchio Ma probabilmente terrorizzati da John Carpenter Sono stati tutti zitti Andiamoci a vedere il trailer Perché ci metterà nel mood Del film Stoppo un attimo tutto E vediamoci il trailer Che fegata Sono divertito parecchio A rivedere questo canto A precisamente 10 am In una vicenda calda Si addormentano Si addormentano Qualcosa di inspiegabile Qualcosa di incredibile Incredibile Ci sono molte pregnanze Molto più di quello che si aspettavano Tutte le pregnanze Seguono a datare dal giorno del plazio Oh no Oh no Oh my god Sei bambini incazzati Lui non si trasformerà in Superman Sappiato E lui E lui non tirerà fuori una spada laser Sappiate anche questo La polizia non può fare niente Per stoppare i bambini Get out where you can There's something so much more powerful Than we'll ever be What are you gonna do? The only thing that we can do You can't stop us, you know Don't try Christopher Reeves Christy Alley Il villaggio dei dannati Allora Mi sembra molto carino Come Come trailer Fatemi riprendere le fila Allora È un film È un film che è considerato un po' Un filmaccio Ciao Waki Nini diavoli È un film tv questo? Se non erro Non credo sia un film tv in realtà Però è vero che Allora non lo so Quindi non ti rispondo con certezza Però non credo Però è vero che Certe cose Non raggiungono I livelli Diciamo Di autorialità Che Magari ci sono In altri film di Carpenter No Dove è più Tutto è più È fatto meglio Questo era un film che lui Non che non voleva fare Che non era uno dei suoi pallini Cioè lui gli han detto Guarda che abbiamo sto film E lui ha detto Ah ok Lo conosco L'ho visto È un film di fantascienza È horror Lo faccio Figurati Quindi Però Secondo me Manca quella Quella forte Quel forte coinvolgimento Che ci può essere Con un film che invece Desideri fare Perché magari C'è un'idea Da tanto tempo Eccetera Nonostante Secondo me Questo film È andato molto male Per la critica E al bottiglino Quando è uscito Proprio è stato Un flop Nonostante ciò Negli anni Ha guadagnato Terreno Come tanti film Di quegli anni Lì Questo è del 95 Alla fine è diventato Un cult Per me Alla fine È comunque Un film valido È comunque Un film valido Perché La mano di Carpenter Si sente Purtroppo Non ho avuto modo Di rivedere Il primo film originale Del 1960 In bianco e nero Dove alcune cose Sono diverse E quindi Non posso farvi Proprio Un confronto Con quello lì Però di sicuro Carpenter Ha preso Una storia Di fantascienza E ci ha messo Anche qua Un filino Del suo Mettere Insomma La politica Gli aspetti sociali Della società americana Soprattutto Gli ha messi Dentro al film Quello sicuro È un film Infatti Dove L'incipit iniziale È proprio Creare Un film Sulla cultura americana Infatti è Ambientato in un tipico Paese americano Tantissime persone Vengono dai paesi Americani Come questo Quindi paesini Dove c'è Un prete Un medico Due poliziotti E tutto è a livello Di provincia Nello stesso film Ci sono appunto Il protagonista Che è un medico Interpretato da Superman Appunto Da Reeves Aspettate che mi apro Anche Perché sennò Poi non riesco Neanche a ricordarmi I nomi Almeno così Ce li ho sotto mano Per non fare Le solite gaffo Vuoti di memoria C'è un prete Che è interpretato Da Mark Hamill L'attore che fa Luke Skywalker Conosciutissimo C'è una specie di Ricercatrice Interpretata Christy Alley Insomma Il cast è Il cast è buono Anzi Anche se In realtà Magari non ha Non è tanto conosciuto Come attore Soprattutto oggi Christopher Reeves È molto bravo Secondo me In questo film È chiaro che Questo tipo di valutazione Però voi la potete fare E ve lo dico perché ho seguito Ho guardato il film doppiato In lingua originale C'è un abisso ragazzi Di recitazione Cioè Non è accettabile Vedere questo film Doppiato E non è una mancanza di rispetto Nei confronti Dei doppiatori Che Non valuto il lavoro Del doppiaggio Quanto è bello O quanto è brutto Rispetto ad altri doppiaggi È proprio Irrilevante Nei confronti Di quello che abbiamo Di fronte Nel senso che È un altro film Cioè Non c'è l'atmosfera Non c'è il pathos Di quello che Che viene trasmesso Dagli attori Mentre recitano Quindi proprio È un altro film È molto più Più serio E più di qualità In lingua originale Non c'è un cazzo da dire Ed emerge comunque La bravura Sicuramente Di Christopher Reeves Che noi conosciamo Come un attore Insomma Che fa Superman Quindi Non lo so Cioè Sono quei ruoli Che ti fanno Ti marchiano Un po' male Secondo me Dal punto di vista Dell'opinione pubblica Poi Invece secondo me È bravo È molto bravo In questo In questo villaggio Quindi ci sono Queste figure Che poi rappresentano Alla fine Anche degli stereotipi Degli archetipi No Del Il medico Chiaramente rappresenta La scienza Il prete Rappresenta La parte Teologica E poi C'è anche Un personaggio Di una madre Che rappresenta Ovviamente La maternità L'umanità Dico di una madre Perché ci sono Altre madri Nel film Ma solo Una di queste madri Svilupperà Un rapporto Con uno dei bambini Più profondo E infatti Questo bambino Che si chiama David Inizierà A provare Qualcosa Mentre gli altri No Questo elemento Questo bambino Che ha una sorta Di ripensamento Insomma Inizia a scavare Dentro di sé Trova qualcosa Che gli altri Bambini Non trovano Perché sono Aliento Aliene O qualcosa Perché poi C'è anche La questione Che è anche Un po' Vaga Sugli alieni O meno È il figlio Appunto Di questa madre Quindi Lei è un po' Rappresenta Questa maternità Quest'umanità L'elemento Del bambino Che Si discosta Dagli altri E che inizia Un po' Ad aprirsi A un eventuale Cambiamento È un elemento Che nel film Originale Non c'era E che è stato Inserito Da John Carpenter E credo Che sia Un elemento Fighissimo Perché Inizia Cioè Nella base Nella storia base Inserisce una serie Di Elementi Che Creano Molte più Questioni In sospeso E più dubbi E più E più domande Quindi diventa Anche più curioso Seguire La storia Nel senso Che proprio E poi c'è anche Anche il finale Del film È proprio legato A David Questo bambino Che Non si sa Nel finale Se diventerà buono O diventerà cattivo Quindi lascia Il finale aperto Giustamente Carpenter Dice Non è un finale Che è stato lasciato Così per fare Un seguito È un finale Che è stato lasciato Così per lasciare Un grande punto Di domanda Un'incognita E io Tra l'altro Essendo anche Un po' figlio Di quegli anni lì Degli anni In cui i film Avevano il finale Aperto Non il finale Aperto Perché così Faccio il seguito Ma il finale Aperto Che dava Respiro Alla fantasia L'ho sempre amati Io ai finali aperti Mi sono sempre Piaciuti un casino Quindi L'ho apprezzato Tantissimo Attori Troppo ravvicinati Nell'immaginario Comune Nel senso Che sì Che noi li associamo Troppo A A Superman A A questi personaggi qua A maggior ragione Poi se Se ci associamo Anche il doppiatore Però ti dico In realtà Questa cosa Non accadrebbe Se gli fosse permesso Di far più cose Quindi Col tempo Poi uno Inizia a scendere Tra È chiaro che Superman È stato Un elemento Talmente tanto Di successo Che È difficile Scrollarselo Di dosso È diverso Per alcuni attori Che magari Hanno fatto personaggi Sì famosi Ma non così tanto Ma sono Associati Con il personaggio Solo perché Hanno fatto solo Quello E quindi È chiaro Che è diverso Lui è Lui ha fatto Anche altre cose Ma Era troppo Troppo Ingombrante L'immagine Di Superman Poi Tra l'altro Per concludere Anche il discorso Di Di Reeves Lui ha avuto Un incidente Per chi non lo sapesse Perché questo video Lo può guardare Anche Possono guardare Anche Millennials O Altri tipi Di generazioni Lui è caduto Da cavallo Perché amava Andare a cavallo Ed è rimasto Paralizzato E questo episodio È successo Esattamente Subito dopo Le riprese Di questo film Quindi questo È l'ultimo film Che ha visto Questo attore Christopher Reeves Lo ha visto Camminare Muoversi Con le sue gambe Eccetera E per il cast Chiaramente Ricevere Questa Notizia Poco dopo Essersi Diciamo Salutati Aver festeggiato La chiusura Le riprese È stato Un vero shock Oltre che Chiaramente Per Reeves È stato Più che uno shock È stata Una cosa devastante Non conosco Poi bene La storia Di lui Come l'ha presa Come la Certo non l'ha presa bene Però L'impressione Che ho avuto Da quello che Sentivo raccontare Che lui Comunque era un uomo Molto forte E che Comunque Ha fatto Quello che poteva Per continuare a vivere Continuare a portare avanti Delle battaglie Quindi Io ho sempre avuto Queste bellissime Immagini di lui Come Un supereroe Ma anche Un supereroe Dopo Molto bello Che Che in questa cittadina Succeda una cosa Particolare No È Una cittadina Ordinaria Con persone Ordinarie Dove Succede qualcosa Di straordinario È un po' La base Di tantissimi Film E Spesso Quando dobbiamo Fare qualcosa Di straordinario Far accadere È qualcosa di straordinario È meglio farlo In una In una Micro comunità In un piccolo villaggio In una piccola città Dove ci sono Cioè Dove quello che accade Coinvolge Cambia Condanna Diciamo Ammala Tutta quella Microsocietà E quindi Anche il titolo È anche Il titolo Diverso Del film Quindi Il villaggio Dei dannati Ci sta In questa dimensione Perché essendo appunto Un villaggio Viene condizionato Da questa Nascite Improvvise Adesso vi dico La sinossi Un attimo Perché non ve l'ho detta Per chi non la sapesse Quindi ci sta E spesso viene usato L'escamotage Di far cadere Episodi Di questo tipo In piccoli luoghi Anche se c'è da dire Che Il fatto che sia stata scelta Una Una Piccola città È anche per far sì Che l'americano Si riconoscesse Perché Comunque Non tutti vivono A Washington E a New York In America Ci sono tantissime persone Che vengono Da un piccolo paese È una realtà Di tantissimi E quindi Anche per un senso Di appartenenza È stato fatto Per far sì Che la gente Si sentisse più coinvolta La storia Senza spoiler Vabbè no Ma questa è una recessione Spoiler Quindi Vede praticamente Questi bambini Queste madri Di questo villaggio Anzi Tutte le persone Di questo villaggio Di questa città Addormentarsi Di punto in bianco Mentre stavano facendo Le cose più disparate E poi Dopo un po' Dopo qualche ora Risvegliarsi Stando benissimo Ma tutte le donne Sono incinta Tutte Tutte partoriscono Allo stesso momento E tutte Si ritrovano Un figlio Dai capelli bianchi Gli occhi strani E con una personalità Molto particolare Cioè tutti sono Molto poco empatici Privi di sentimenti Non hanno Diciamo La capacità Di esprimere sentimenti Non provano sentimenti Sono molto Come degli automi Sono anche Molto intelligenti Infatti vediamo Una bella scena Dove David Il bambino Appunto più Protagonista Degli altri Nella storia Scrive il suo nome Con i dadini Quelli che hanno Sulle lettere Lo scrive A tipo Pochi mesi Di età Mentre Gattona O dopo un anno Di età Gattona E scrive il suo nome Perché l'ha sentito La madre che lo chiamava Molto carine Ste cose qua Non solo Sono molto intelligenti Sono molto poco empatici Sono anche Abbastanza Spietati Nel senso che Sporadicamente Decidono di Fare delle azioni Contro le persone Usando i loro poteri Telepatici Ipnotizzano la gente E fanno Gli fanno fare Quello che vogliono E c'è una bellissima scena Della moglie Di Christopher Reeves Il medico del paese Che Infila Soggiogata da loro Infila il braccio Dentro una pentola Di acqua bollente E ce lo lascia Finché Non arriva in soccorso Un'amica A tirarglielo via È una scena Fatta molto bene Poi ce ne sono anche altre Molto belle Molto horror Di questo tipo qua Ciao Waki Benvenuto Benvenuti a tutti Bambini molto intelligenti Tra l'altro curiosità Che magari Io non ci avevo assolutamente Fatto caso Ma vedendo gli extra Ho scoperto anche Questi aneduti qua Due bambini Che qua vedete Nelle foto E nel film Comunque in realtà Sono bambine Che hanno interpretato Il ruolo di maschi Non so perché È stata fatta questa scelta Forse per avere Dei volti Meno Non lo so Più femminili Più Come se fossero Più androgeni Non lo so Io trovo che Che dentro A questo Quest'idea qua No Dei bambini Allora Intanto c'è da dire una cosa Che Non è chiara In realtà Anche se nel film di Carpenter È più chiara ancora Il fatto Non è chiaro Il fatto Che siano meno alieni In questo caso Noi scopriamo Nel film di Carpenter Che sono Una sorta di alieni Una specie di Essere Che Telepatico Quindi ragionano tutti Con un unico pensiero E Sono Insomma Come certi insetti Hanno una coscienza comune E hanno un istinto Di infestazione Delle altre Degli habitat Per cui loro vanno Uccidono tutto quello Che 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 trovano E cercano di Proteggersi Così Quindi Il loro attacco Nei confronti dell'umanità È legato al fatto Che loro Uccidono Vogliono uccidere Gli esseri umani Per evitare di essere uccisi Loro stessi Quindi loro nel dubbio Uccidono Che è un po' L'atteggiamento Questo atteggiamento Infestante Di distruzione Degli habitat È un po' Lo stesso Che hanno gli alien E gli xenomorfi Cioè Quello di Di essere proprio Infestanti E distruttivi Negli habitat Lo vedrete Poi se guardate La saga di alien Vi renderete conto Che quello è È il tema Un po' Di tutta la cosa E loro sono Un po' Simili agli xenomorfi Cioè Vanno Distruggono E si impossessano Infestano Diciamo I pianeti O gli habitat Dove vanno Questo è un po' Mentre invece Mi sembra aver capito Perché poi L'ho letto Nel Non lo ricordo bene Per cui Non ho neanche fatto In tempo a vederlo Prima di questa recensione Magari me lo rivedrò Quando comprerò L'edizione Nel primo Villaggio dei danati Nel 1916 Era ancora meno chiaro Che cosa fossero Questi bambini Perché c'era Comunque Forse la volontà O comunque Non so se involontariamente C'era comunque il dubbio Che potessero essere Esperimenti Quindi Una sorta di evoluzione Dell'uomo Voluta o non voluta Che Un'evoluzione Chiaramente Non è andata a buon fine Evidentemente E questo è anche Un aspetto interessante In generale Con questi bambini Con gli occhi così I capelli bianchi Eccetera E' chiaro Che vengono alla mente Tematiche come Appunto Il Terzo Reich La razza riana Bambini super intelligenti Chiaramente richiamano A quel tipo di Eventi storici Che dove c'erano Queste farneticazioni Assurde Dei tedeschi Quindi E' affascinante Quanto meno Come tema E Carpenter Appunto C'è Ci ha andato Ci ha sguazzato abbastanza In questo tipo di Di storia In più Ha una cosa carina Che ha fatto Questi bambini Li ha vestiti In un modo molto Poco colorato Perché comunque Il film è a colori Quindi gli ha messo Dei capotti Dei vestiti Un po' così Un po' Grigi Cose così Ed è molto Carino Perché l'effetto Sembra quasi Sembra quasi Di vedere Dei personaggi Che escono dal film Degli anni 60 Ed entrano in quello nuovo Gli ha dato Questa forte Spersonalizzazione Togliendogli appunto I colori Eccetera Di dosso Chiaramente Non è che sono In bianco e nero Veramente In generale Il film a me è piaciuto E mi è piaciuto Rivederlo Non ricordo Le sensazioni Che ho avuto All'epoca Perché non ricordo Veramente più Quanto tempo fa L'ho visto Però Se posso dire L'ho rivalutato Un bel po' Credo che Di non averlo Mai considerato Molto Questo remake Invece L'ho rivalutato Abbraccia tantissimo La fantascienza C'è anche un po' Perché poi c'è anche un dibattito Tra Christopher Reeves Il personaggio suo Si chiama Dottor Alan Caffey C'è un dibattito Tra lui E questi esseri alieni E secondo me C'è anche una critica Perché lui dice Ma non possiamo Perché siete così Perché ci volete distruggere Cioè Non è questa L'evoluzione Verso cui dobbiamo andare No? Cioè E loro Fondamentalmente Lo fanno Lo fanno E la loro scelta È una scelta Conservativa Per precauzione Distruggono Perché Dicono Noi siamo migliori Di voi E quindi Prima o poi Voi vorrete Farci fuori E quindi C'è fondamentalmente Anche una critica Come noi interpretiamo La convivenza Con gli altri La conflittualità L'incapacità Di coesistere È un film molto Anche sulla Sulla sensibilità È un po' surreale No? È surreale Che delle donne Accettino di tenere Dei figli Che non sanno Di chi sono Perché il governo Perché il governo Le sollecita A tenere i figli Perché li vuole studiare Vuole scoprire Cos'è successo Quindi li riempie di soldi Mi sembra che tipo Gli dia Un equivalente Di 6.000 euro Al mese A famiglia Una cosa del genere E chiaramente Vedete 6.000 euro al mese Solo per portare avanti La gravidanza Cazzo C'è questi Magari in quelli Sono robe Che un pensierino Ce lo fai È un po' assurdo Però che appunto Si arrivi C'è È un film Che in generale Si basa Sull'assurdo Però appunto È la dimostrazione Di come non è importante La logicità A tutti i costi Di tutti gli elementi Per raccontare una storia Ci si basa appunto Sull'assurdo Per raccontare una storia E mi sembra Abbastanza normale È un po' La tendenza Di molti Quella di Giudicare i film Su una logica Che Che non è secondo me Quella giusta Che è la logica Terra La nostra logica Della realtà nostra Applicata ai film O alle storie Il film venne Questo è un altro aspetto interessante Venne criticatissimo Dalla chiesa Per una ragione Perché Vabbè Tutte le donne Rimangono incinta Ma sono tutte donne Ce n'è una però Che è vergine Chiaramente Quindi le altre C'è sempre C'è questa cosa Nel film Il dubbio Che il figlio Sia del marito Eccetera Però Una di queste È vergine E così rimane E quindi Diciamo Questa Questo aspetto Questa Diciamo Questa nascita Virginale Si dice No Cioè Come Maria Fondamentalmente Chiaramente Mette in crisi La chiesa Che condanna il film Cioè Uno Non può neanche Non può neanche Invitarsi una storia Perché Vogliono il copyright Questa nascita così Proprio Non me l'aspettavo Vogliono il copyright Su Sulla Su questa storia qua E Non lo so Comunque Non so bene Cosa abbiano detto Però Chiaramente A loro Ha infastidito Molto Che si Si parlasse In questo modo Ragazzuoli E fantascienza C'è una bella citazione Di Frankenstein Come ce n'è In tanti film La folla Inferocita Ci sarà la folla Inferocità Anche qua Identica Con le fiaccole E i bastoni Pronti ad uccidere I bambini Esatto Uno può inventarsi Una storia Perché l'avevano Già inventata loro Immacolata concezione 2.0 Esatto Bravi Bravi Così mi piacete Ambigui Era riguardo il fatto Che abbiano scelto Bambine Per impersonare Dei maschi E' una cosa Che crea Una specie Di disagio inconsciamente Può essere vero Può essere Un Un escamotage Una Il fatto che Tu guardi Non individui Il sesso E quindi rimani Sconcertato Dalla tua Insicurezza Di capire le cose E quindi di conseguenza C'è Forse Un lontano Ma presente Disagio L'androgeno Destabilizza Certo Sono d'accordissimo Ottima Osservazione Mi ricordo Che io da bambino Quando E si parla Comunque degli anni Ottanta Quando individuavo Una persona Maschio O femmina Di cui non capivo Velocemente Il sesso Ero molto a disagio Però Ero anche un bambino Quindi Mi urtava Non capire Questa cosa qua E' chiaro che è legata A una questione culturale Sono dell'idea Che tra Tantissimi anni Penso Non adesso Quando Spero Per noi Non ci saranno più Differenze Di questo tipo Ma Solo Cioè La nostra differenza Sarà solo Il nostro pensiero Allora Magari Non ci saranno più Di questo tipo Di disagio No Perché E' un disagio Fondamentalmente Culturale Un po' come vedere Un uomo Con i capelli lunghi Negli anni In cui Negli anni Cinquanta Cioè Chissà Che Veramente Che Fastidio Poteva dare Ciao Mirko Grande Le gran guignol Allora Andiamo avanti Finiamo la recensione Di Del villaggio dei dannati Un piccolo divagazione Ci sta Molto bella A un certo punto Una scena Dove Christopher Reeves Impara A bloccare La lettura Della mente Da parte Di queste Di questi alieni E Inizialmente Usa delle onde Del mare Che sono associata A un ricordo Che ha con la moglie Che è morta Poi Si inventa Nella mente Un muro E questo E i bambini Quando cercano Di entrargli Nella testa Vedono un muro Di mattoni Rossi E lui E scogita Un piano Per farli saltare In aria Ma Non vuole Che gli Leggano nella mente Che lui Ha nella borsa Una bomba E quindi Immagina Questo muro E loro Si schiantano Conto questo muro E lo vedono Proprio Vedono il muro E non riescono A valicare Questo muro A superarlo Poi ci sarà Tutta una dinamica E loro A un certo punto Si impegnano E questo muro Inizia I mattoni Iniziano a saltare Inizia a distruggersi Il muro Finché loro Finalmente Non riescono A vedere Dall'altra parte Vedono i suoi pensieri E i suoi pensieri Cosa sono Una borsa Con dentro Una bomba Una scena Bellissima Montata d'arte Chiaramente Quando loro Vedono la bomba È troppo tardi Boom Saltano per aria Lui è un eroe Lo è sempre stato Per la comunità Nel quotidiano E lo è anche adesso Quindi bellissimo Che ci sia l'eroe Tutto È fatto Ci sono tante cose Così Che sono carine Però effettivamente È un film Che ha Delle sbavature Rispetto agli altri Fili di Carpet Quindi ci sta Che possa essere Considerato Un po' inferiore Rispetto agli altri C'è una scena Che non è stata Portata nel film Che ho scoperto Negli extra Dove E vedrete le immagini Se comprate l'edizione Dove Che è stata tolta Ce ne sono di scene Che sono state tolte Che vi verranno raccontate Questa ci tengo A parlarvene Perché è veramente Bellissima Realizzata in un modo Strepitoso E non so perché Non l'hanno messa Super horror Dove i neonati Quando nascono Sapete che vengono messi In queste ceste Di plastica Con il nome E il Diciamo Il sciugamanino Quelli comodi Ecco Tre di questi neonati Inquadrati Si alzano Neonati Sulle loro gambine Dritti Come tre zombie Però dritti Tutti All'unisono Quindi loro sono sempre In simbiosi Quindi si alzano All'unisono E si voltano Verso L'obiettivo La camera E sono degli animatronic Fatti da Greg Nicotero Che cura Tutti Gli effetti speciali Di questo film E aveva curato Anche questa scena Che ragazzi È stupenda È stupenda È vero Un vero peccato Che non sia È stata inserita Un film Non approvata Dal regista E quindi Con dei difetti Magari Che noteremo anche noi Ecco Quello può essere Può essere uno dei problemi Di questo film Che comunque Si è vero Che ha un po' Un sapore televisivo Per certi aspetti Però 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 devo dire Che l'ho trovato Molto molto Carino Sicuramente Ci sta Valutarlo Come uno dei film Minori Di Carpenter Ma non significa Che non abbia Qualcosa da dire E che non sia Molto carpenteriano Anche se non era Un progetto Che lui Diciamo Ambiva a fare Gliel'hanno affidato E l'ha fatto Con grande serietà Mi ha fatto Molto specie Vabbè Che su IMDB Neanche la sufficienza Arriva Secondo me È esageratissimo Perché ci sono Immagini molto belle Nel film Molto da Da visionario Da creativo Del cinema Quindi Veramente Cioè Se quello Non prende Almeno un 6 O un 6 e mezzo Almeno è assurdo Comunque Non mi piace dare i voti Però quando vedo i voti Così del popolo Un po' mi girano Di Zebedei Un'altra cosa Che mi fa un po' Girare di Zebedei È una vecchia Penso Spero Una vecchia Pubblicazione Del Morandini Che Io dico Fa un po' L'altezzoso Il Morandini Non inteso lui Perché non so Se l'ha scritta lui Ma il Diciamo Il Morandini Il dizionario Dice Personaggi evanescenti E Quando entra in scena I terribili biondini Si scivola Nel ridicolo Involontario Secondo me Proprio C'è Questo Questo tipo Di recensioni Questo tipo Di valutazioni Passive Passivo Aggressive Con un filo Di rose Sotto Sono Fanno Veramente Sono Proprio Emblematiche Di un tipo Di critica Che Ha sempre Intossicato Il mondo Della critica L'ha sempre Intossicato Male Facendo Odiare i critici Facendo Portando Il mondo Della critica Verso una direzione Che Non era quella Dovuta Non era Non è così Che Almeno che io Penso che bisogna Bisogna fare critica Penso sia una recensione Vecchia Fatta da Qualcuno Che Forse Spero Abbia cambiato Lavoro Perché Comunque Il film È un film Di genere E io Io ci vedo Perché dico Che è un'affermazione Un po' altezzosa Perché è un film Di genere E ci noto Un po' di Come dire Un po' di puzza Sotto il naso Nei confronti Del genere Il genere È questo Cioè Non mi puoi venire A rompere le palle Perché i bambini Hanno i capelli Bianchi E non biondi Perché sono strani Dovevano essere Strani Se tu sei Se tu hai delle difficoltà Col cinema Di genere Fai pace Col cinema Molto bello Quindi Il finale Diciamo che sì Effettivamente Ha dei punti In cui Non è perfetto Però Veramente Cioè Ma fossero tutti così I film di genere Per me Assolutamente Non è Non è un film Così criticabile Anzi L'edizione è Come al solito Maravigliosa È una classic Compratela Accattatevela Sono sempre bellissime Queste edizioni C'è un bel po' di extra Per chi vuole tutto Carpenter Ci sta Direi che Posso finire qua La recensione E poi se volete Ne parliamo Con più Rilassatezza Questo qua Diciamo È un video Che estrapolo Anche da mettere Su youtube Per chi sta Vedendo questo video Su youtube Iscrivetevi al canale Ma Cioè Non lo so Che cosa ci fate Ancora su youtube Però Se volete Iscrivetevi al canale Io vi aspetto In realtà su twitch Dove Ci si diverte Un casino Grazie